avete presente le pistole elettriche taser che l'italia sta acquistando tra corruzione mazzette siccome ne vogliamo sapere un po di più su queste pistole abbiamo chiesto al ministro competente ministro degli interni quello del bullo alfano ma oltre a non risponderci al telefono neanche ci richiamano così siamo andati la di persona direttamente al ministero anche dopo esserci qualificati ci hanno fatto un vero e proprio interrogatorio poi ci hanno fatto attendere 10 minuti e ci hanno detto che dobbiamo richiamare il centralino affari generali tra 20 giorni da questo sopralluogo non è scaturita nessuna informazione utile questo è il modo in cui trattare i parlamentari e il parlamento secondo il ministro alfano e poi dicono che non siamo in un regime grazie a tutti